Più che una tirata ad orecchie al giovane avversario politico, una sorta di pacca sulla spalla di chi suo malgrado viene considerato una sorta di pedina all'interno del suo stesso partito. Il consigliere regionale Flì Euprepio Curto replica al coordinatore di Noi Giovani Dario Pio Mancino assolvendolo da particolari colpe che non siano quelle di essere intervenuto sulla carella quartiere musicisti sotto la spinta di qualcuno. Che l'ex senatore però si guarda bene dal nominare non ti sfuggirà il fatto che se solo lo avessi voluto avrei potuto utilizzare anch'io qualche collega di partito per replicare la tua nota ma ciò, scrive Curto a Mancino, sarebbe stato in profondo contrasto col mio stile e i miei principi. Quindi ti rispondo personalmente sia perché ritengo che, pur molto giovane, tu abbia diritto ad essere considerato interlocutore politico sia per il rispetto che nutro nei riguardi dei miei colleghi di partito che nessuno e quindi neppure Uccio Curto può ridurre al ruolo in vero poco edificante di meri megafoni, strumenti o ventriloqui che dir si voglia. Alle accuse Curto risponde E' evidente ad ogni modo che non sia certo Mancino l'obiettivo di Curto, la critica piuttosto è ai maggiorenti della sua parte politica, una parte che l'ex senatore conosce bene per i trascorsi ma che evidentemente non stima in uguale quantità. E' vero che sto da 30 anni sulla scena politica, dice Curto, ma questo non è un dettaglio negativo, semmai dimostra che non sono, né sono stato, una meteora e dire che di meteore ne ho viste e continuerò a vederne.